The Martian, il sopravvissuto, è un film del 2015 di Ridley Scott in cui il protagonista, un astronauta, viene dato per morto dai suoi compagni di equipaggio e lasciato su Marte. Deve quindi cavarsela e tentare di sopravvivere fino a quando i soccorsi non verranno a recuperarlo. In pratica è una specie di Robinson Crusoe su Marte e tra l'altro non è la prima volta che un'idea del genere viene sfruttata nella fantascienza e nel cinema di fantascienza, ma sicuramente The Martian è il film che lo fa con maggiore realismo e anche con maggiore successo dal punto di vista della storia. Quindi proviamo a vedere un po' di che cosa parla The Martian ma soprattutto cerchiamo di esplorare un po' la scienza che sta dietro The Martian e cerchiamo di capire come è stata utilizzata nel film. Intanto la prima cosa da dire su The Martian, sul film, è che è tratto da un libro. Il libro è questo, in italiano è stato tradotto L'Uomo di Marte, scritto da Andy Wire, che è un appassionato di spazio, non faceva lo scrittore di professione quando ha iniziato a scrivere questo libro. In realtà la storia è anche abbastanza interessante perché Andy Wire ha iniziato a scrivere questo libro pubblicandolo sul suo blog, quindi su internet gratuitamente per i suoi lettori. Dopo lo ha trasformato in un libro venduto online a un prezzo veramente simbolico e questa cosa in realtà ha reso il libro incredibilmente popolare. Il libro ha venduto tantissimo e ha catturato poi l'interesse dei produttori. È una cosa che succede molto raramente, ma il fatto è che il libro è veramente molto bello. Infatti se vi è piaciuto il film, in realtà vi consiglio di leggere il libro. Nel libro c'è molta più scienza, quindi se per caso siete interessati a capire un po' meglio alcuni dei dettagli che nel film ovviamente vengono raccontati solo di sfuggita, il libro è veramente interessante. Il libro almeno per la prima parte è scritto praticamente come se fosse veramente il diario del protagonista che è rimasto su Marte e che quindi inizialmente è preoccupato dalla situazione e poi deve appunto iniziare a cavarsela. E nel diario racconta esattamente tutti gli sforzi che fa per cercare di sopravvivere e poi anche per cercare di mettersi in contatto con la Terra e rendere noto che è ancora vivo e che potrebbe essere salvato. Ma passiamo appunto alla scienza di The Martian e cerchiamo di capire le cose che vanno e le cose che non vanno, sempre con la solita premessa che un film di fantascienza non si giudica poi da quanto la scienza sia accurata, però nel caso di The Martian l'aspetto scientifico è davvero molto importante anche per la trama e quindi è anche interessante cercare di capire dove la scienza è stata trattata in modo preciso, in modo accurato e dove no. E diciamolo subito, è un film in cui l'accuratezza scientifica è altissima e probabilmente tra i film di fantascienza usciti soprattutto negli ultimi anni quello che ha fatto meno errori, ma soprattutto è quello che ha dato un'immagine di quello che potrebbe succedere in una situazione del genere estremamente accurata. Tra l'altro la scienza è così presente nel film che se uno volesse veramente analizzarlo completamente, e la cosa è ancora più vera per il libro, se uno volesse analizzarli completamente probabilmente il video dovrebbe durare alcune ore o anche di più della lunghezza del film. Quindi concentriamoci solo sugli aspetti principali e iniziamo soprattutto dalle cose che vanno nel film dal punto di vista scientifico. La prima cosa che è mostrata con un certo realismo è il fatto che il protagonista per sopravvivere deve mangiare, e per mangiare su Marte, soprattutto dal momento che non sa quando verranno a riprenderlo, e quindi la sua permanenza potrebbe durare mesi se non addirittura anni, deve produrre del cibo. Non può usare semplicemente le scorte che sono state portate dalla Terra. E quindi per produrre del cibo deve coltivare. Il problema però è che su Marte non c'è un suolo coltivabile, il suolo di Marte non è uguale al suolo terrestre. In realtà la cosa che sappiamo è che Marte ha un suolo estremamente ostile. Il suolo di Marte ha una chimica particolare che è molto sfavorevole alla presenza di composti organici, e poi ovviamente per quello che ne sappiamo è privo di vita e quindi non ci sono nel terreno tutti quei microrganismi, quei batteri che sulla Terra aiutano il processo appunto di coltivazione delle piante. Quindi quello che fa il protagonista e che vediamo nel film è intanto usa un po' di terreno che per qualche ragione si erano portati dietro durante la missione di terreno terrestre, che quindi è più adatto ad essere coltivato. E poi insomma se avete visto il film o avete letto il libro sapete anche che usa un concime naturale per rendere il terreno coltivabile e in questo modo riesce in qualche modo a cavarselo. Ovviamente ha bisogno di semi che anche questi erano stati portati dalla Terra. Naturalmente l'espediente narrativo che viene utilizzato sia nel film che nel libro è che il protagonista, appunto l'astronauta rimasto su Marte, è un botanico, quindi è uno scienziato che sa esattamente quello che deve fare in una circostanza del genere, oltre che un astronauta, quindi una persona che è stata addestrata e che sa sbrogliarsi molto bene in situazioni difficili come questa. Quindi il primo aspetto, quello della coltivazione di patate, come avviene nel film su Marte, è un aspetto che tutto sommato è reso in maniera abbastanza realistica. Un altro aspetto interessante sia del libro che del film è la necessità di avere ovviamente dell'acqua, dell'acqua liquida a portata di mano. Ora, questa è una cosa che viene risolta dal protagonista praticamente fabbricandosi dell'acqua, cioè attraverso un processo chimico fondamentalmente che prende l'ossigeno e l'idrogeno, li mette insieme e produce dell'acqua. Nel libro questa cosa è spiegata con molti dettagli, come dicevo prima, comunque fondamentalmente l'idea è quella di prendere l'idrazina, che è il composto che viene usato nella navigazione spaziale come propellente per i razzi, che contiene dell'idrogeno al suo interno oltre che dell'azoto, e poi di prendere l'ossigeno dall'anidride carbonica, che è abbondante nell'atmosfera marziana e che il protagonista riesce a intrappolare in qualche modo e quindi poi produce dell'acqua. Questa cosa è una cosa un po' complicata da realizzare, ma possiamo credere che un astronauta addestrato possa trovare il modo di farla, soprattutto se ha qualche nozione di chimica e ha gli strumenti adatti. È anche una procedura un po' pericolosa, come vediamo poi nel corso del film e del libro, perché si ha a che fare con gas che potenzialmente sono esplosivi, soprattutto appunto se la reazione non è gestita nel modo corretto. Non sarebbe stato più facile per il protagonista prendere l'acqua direttamente da Marte, visto che sappiamo che su Marte c'è parecchia acqua nel suolo, che però è acqua allo stato ghiacciato, non è acqua allo stato liquido. Probabilmente sì, però diciamo che in realtà in questo aspetto della finzione la cosa funziona abbastanza bene, perché non è detto che poi reperire quest'acqua ghiacciata dal suolo marziano sia necessariamente più facile che crearsela attraverso la sintesi chimica. Un'altra cosa che viene resa molto bene e che tra l'altro rende il film in questo caso più interessante e affascinante del libro è l'aspetto visivo, perché nel film si vedono questi paesaggi marziani che sono resi veramente con un realismo incredibile. Sembra veramente di stare su Marte. Se avete visto dei panorami, delle sonde marziane mandate negli ultimi anni, negli ultimi decenni, avete visto appunto che somigliano molto a quelli che sono mostrati nel film, ma la ragione è semplicemente che appunto il regista ha usato quelle immagini proprio per rendere i paesaggi realistici. Una cosa interessante è che al centro della trama c'è proprio il fatto che a un certo punto il protagonista deve spostarsi su Marte, quindi deve attraversarlo e deve fare addirittura più di 3000 km per raggiungere il posto dove si aspetta che in futuro potrebbe venire una nuova missione spaziale a prelevarlo. Ecco, la cosa per dare un'idea delle distanze è abbastanza impressionante, perché 3000 km percorsi sarebbero tanti anche sul suolo terrestre, ma sul suolo marziano con le difficoltà che il protagonista si trova ad affrontare sono sicuramente ancora di più. E pensate che tutti i rover che abbiamo mandato su Marte hanno complessivamente percorso una distanza veramente piccola, poche decine di chilometri, quindi la distanza che il protagonista si trova a dover percorrere su Marte è veramente molto grande. Inoltre, un'altra cosa che potrebbe sembrare incredibile, ma che non lo è affatto, è il fatto di non riuscire a visualizzare facilmente qualcuno che è rimasto sul suolo marziano, nonostante tutte le missioni e tutti i rover che abbiamo e tutte le sonde che hanno osservato e mappato la superficie di Marte. Ma appunto Marte è grande, tutta l'area di Marte corrisponde quasi esattamente all'area di tutte le terre emerse sulla Terra, quindi immaginate di avere una persona persa nel globo terrestre solo sulla parte emersa e di doverla localizzare in qualche modo solo visivamente, senza sapere esattamente dove trovarla, insomma non sarebbe affatto un'impresa facile. Quindi il protagonista deve inventarsi un modo, dei modi per poter essere osservato e recuperato, e una delle cose che fa e che è un alto tocco di realismo che c'è nel film è di utilizzare uno dei vecchi rover lasciati sul suolo marziano, ovvero il rover Sojourner che faceva parte della missione Pathfinder e come avete visto nel film il protagonista a un certo punto recupera questo piccolo rover e lo usa, lo utilizza in realtà per connettersi e per comunicare, usando l'antenna per comunicare con la Terra, con la NASA. Questo è un altro tocco molto interessante perché in realtà gli scienziati della NASA che hanno collaborato anche con la realizzazione del film hanno confermato che il rover avrebbe effettivamente una porta di questo tipo dove il protagonista potrebbe veramente collegare le sue apparecchiature, il suo computer per comunicare con la Terra. Un'altra cosa che è resa molto bene nel film è la distanza e quindi la lunghezza nelle comunicazioni. Marte è sufficientemente lontano dalla Terra che la luce impiega un tempo che va da pochi minuti fino a 20 minuti per compiere il tragitto, quindi le comunicazioni tra la Terra e Marte non sono istantanee, non potete parlare come se parlaste al telefono, dovete aspettare che appunto le onde elettromagnetiche facciano il percorso che separa in quel momento la Terra e Marte. Questa è una cosa di cui per esempio viene tenuto conto, bisogna tenere conto quando si manovrano i rover su Marte, chi sta nella sala di controllo a Terra non può mandare un comando che arriva istantaneamente su Marte, deve aspettare quei minuti per cui c'è sempre un ritardo tra il comando che viene dato e quello che poi effettivamente fa il rover sul suono marziano. Questa cosa appunto nel film è resa molto bene, così come è reso con un certo realismo il fatto che non si può andare su Marte molto rapidamente, i viaggi spaziali impiegano comunque del tempo per raggiungere Marte, anche nella migliore delle ipotesi ci vogliono dei mesi, e nel film, ma ancora di più nel libro, tutto il complicato meccanismo delle traiettorie e dei percorsi che bisogna fare per connettere la Terra e Marte con una nave spaziale, ecco tutto questo è reso in maniera molto realistica. Per quanto riguarda effettivamente la nave spaziale che si trova nel viaggio di ritorno verso la Terra e che poi a un certo punto, come vediamo, torna indietro per recuperare l'astronauta rimasto su Marte, la nave spaziale è interessante perché ha degli aspetti realistici, per esempio un aspetto realistico è quello della gravità artificiale, di cui abbiamo parlato in un altro video, che è simulata appunto con una centrifuga, che ha più o meno le dimensioni che dovrebbe avere davvero per tenere gli astronauti in un ambiente a gravità simulata. Quello che non è del tutto realistico secondo me è proprio il design della nave, che è un po' troppo avveniristico, soprattutto per il tempo in cui è ambientato il film, e soprattutto è un po' troppo di lusso. Ecco, probabilmente una nave che andrà su Marte non sarà esattamente così bella e così confortevole come quella che vediamo nel film. Ma vabbè, ma questi sono piccoli dettagli. Il dettaglio interessante è che a un certo punto la manovra che viene utilizzata per velocizzare i tempi e per tornare quindi rapidamente indietro per prendere il protagonista rimasto su Marte, è la manovra di fionda gravitazionale, ovvero la manovra assistita della gravità. Anche di questo abbiamo parlato in un video precedente, che quindi potete vedere per capire più in dettaglio come funziona. Però appunto questo è un altro aspetto realistico del film che viene sfruttato molto bene. Quali sono invece gli aspetti che vanno un po' meno bene? Non sono tantissimi. Come dicevo, The Martian è un film estremamente realistico che fa veramente pochissime concessioni allo spettacolo hollywoodiano che cerca appunto di essere molto aderente alla realtà scientifica ma comunque è pur sempre un film quindi non deve essere un trattato scientifico. C'è quindi per esempio una grossa licenza che si prendono gli autori e che si era già preso Andy Wire nel romanzo e che per sua stessa ammissione era una licenza che serviva ai fini della trama ma che è un po' tirata per i capelli che è in realtà la ragione per cui l'astronauta viene abbandonato su Marte. Quello che sappiamo è che lo vediamo subito all'inizio del film mentre nel libro è raccontato a un certo punto dopo parecchie pagine dall'inizio ma quello che vediamo è che la ragione per cui l'equipaggio ha dovuto lasciare rapidamente Marte dimenticando appunto il loro collega e il loro compagno sul suolo è che c'è una fortissima tempesta di sabbia. Ora Marte in effetti ha tempeste di sabbia sono tempeste di sabbia anche abbastanza impressionanti da vedere perché spesso la sabbia copre interamente la superficie del pianeta in un modo che è direttamente visibile addirittura con i telescopi cambia completamente l'aspetto del pianeta però nonostante appunto queste tempeste di sabbia siano molto importanti e possano appunto coinvolgere l'interno pianeta non sono tempeste di sabbia particolarmente violente perché? Perché l'atmosfera di Marte è estremamente rarefatta non è densa come quella terrestre e quindi anche i venti sono più deboli di quelli terrestri o comunque il tipo di conseguenze che potrebbero avere i venti alla stessa velocità di quelli terrestri su Marte sarebbe comunque più bassa di quelli che avrebbero sulla Terra quindi insomma fondamentalmente una tempesta di sabbia non avrebbe delle conseguenze così gravi come quelle che vengono mostrate nel film le tempeste di sabbia marziane hanno avuto conseguenze per le missioni spaziali che abbiamo mandato su Marte i rover che abbiamo mandato su Marte sono stati colpiti da tempeste di sabbia ma il principale danno che hanno fatto queste tempeste di sabbia è stato per esempio quello di coprire i pannelli solari con uno strato appunto di sabbia che quindi ha reso magari più difficile o in alcuni casi ha impedito del tutto ai pannelli solari di funzionare ma appunto come dicevo una tempesta di sabbia non potrebbe raggiungere un'entità di danno così grave da far addirittura interrompere del tutto una missione e far tornare rapidamente gli astronauti a casa quindi questo è probabilmente se vogliamo chiamarlo così l'errore scientifico più grande di The Martian ma ripeto è un errore di cui era consapevole sia Andy Weir che ovviamente gli autori del film e che tutto sommato è un errore che si può tollerare ai fini della trama un'altra cosa che non è resa molto bene in realtà sono proprio gli aspetti di interazione del protagonista con Marte in particolare con la gravità la gravità di Marte è circa un terzo di quella terrestre quindi una persona che dovesse trovarsi su Marte si sentirebbe molto più leggera avrebbe un peso inferiore di circa un terzo rispetto a quello che ha sulla Terra ora questa cosa non viene mostrata per niente il regista Ridley Scott ha detto che è stata una scelta precisa non si sono presi la briga il disturbo di rappresentare la gravità più bassa di Marte in maniera realistica perché probabilmente avrebbe complicato troppo le cose si è anche giustificato dicendo che la tuta del protagonista è abbastanza pesante da renderlo da fargli avere un peso simile a quello che avrebbe sulla Terra ma questo insomma funziona fino a un certo punto perché in realtà vediamo Matt Damon quindi il protagonista del film lo vediamo anche senza tuta spaziale e il suo comportamento e il modo di camminare non è assolutamente quello di uno che si trova a un terzo della gravità terrestre quindi questa è un'altra cosa un altro piccolo difetto che non è ripeto non è molto importante ma è comunque un piccolissimo errore nella scienza quindi tiriamo le somme ci sarebbe veramente tantissimo volendo da parlare a proposito di The Martian del libro e del film ma il messaggio fondamentale è che è un film fatto molto bene è bello sia come film che come resa degli aspetti scientifici si vedono un sacco di cose che sono effettivamente molto realistiche che danno un'idea abbastanza precisa di quello che succederebbe in condizioni simili su Marte però forse la cosa più bella in assoluto e che è resa meglio nel film e che è il vero nucleo del film è il fatto che è la scienza che è protagonista ed è protagonista in un modo molto positivo la scienza viene utilizzata per risolvere i problemi che emergono quindi dietro ogni cosa che succede c'è un ragionamento e non ci sono veramente dei cattivi non c'è un nemico da affrontare il nemico in un certo senso è Marte e questo è un altro aspetto interessante Marte viene reso per quello che effettivamente è anche con qualche concessione ripeto ma fondamentalmente l'idea che Marte sia un luogo veramente molto ostile e veramente molto difficile è resa bene nel film contrariamente a quello che a volte si pensa o all'idea che alcuni potrebbero essersi fatti che Marte sia un posto che tutto sommato è simile alla Terra magari un po' simile a un deserto terrestre ma poi non tanto complicato in realtà le cose non stanno così Marte è un luogo appunto molto freddo molto difficile in cui non sarebbe bello trovarsi abbandonati quindi è un film che ci fa vedere da un lato che Marte è complicato e dall'altro che la scienza può darci delle soluzioni e che quindi può essere il modo di tirarci fuori dai problemi grazie a tutti Grazie a tutti.